Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi voglio far vedere una carrellata di tutte le macchine che abbiamo in pronta consegna a partire da questa Audi Q2 1.6 turbodiesel del 2019 con solo 68.000 km, pacchetto S-Line, esterno e interno, cambio manuale. Volkswagen Golf GT 245 CV, cambio DSG 7 marce, colore nero metallizzato. Ma andiamo a vedere fuori che c'è il grosso della situazione. Allora, Audi Q3 2.0 turbodiesel, 150 CV, pacchetto S-Line esterno a fare i full LED, anno 2017 con solo 65.000 km, grigio monsone metallizzato. Poi abbiamo questa bellissima Audi A3 blu a tollo metallizzato del 2021 con solo 20.000 km, versione Advanced col pacchetto Evolution, quindi full optional. Audi A3 vecchio modello 2017, 2.0 turbodiesel, 150 CV, colore nero metallizzato, cambio manuale. Audi A3 2.0 turbodiesel, 150 CV, cambio automatico del 2018 con solo 40.000 km. Un'altra Golf GTI 245 CV, cambio automatico DSG, colore grigio indio, sempre del 2019 con 55.000 km. Per finire con una Golf 8, 2.0 turbodiesel, 150 CV, cambio automatico DSG. Pensate, questa vettura è del 2022 con 35.000 km, praticamente nuova. Ora andiamo a vedere sotto gli altri gazebi il restante del nostro parco auto. Ovviamente non sto a dirvi che se avete la necessità noi possiamo anche farvi arrivare delle vetture dalla Germania come tutte quelle che vedete qua senza targhe, anche su ordinazione. Quindi se avete l'intenzione di prendere una Q5 turbodiesel, una Q5 benzina, una T-Roc, una qualsiasi vettura del gruppo Audi Volkswagen o anche Mercedes o anche BMW, basta che ci chiamate e ci mandate una mail e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa anche se è un periodo un po' di magra che non c'è molto. Abbiamo anche questa fantastica Golf 8 GTI 245 CV Performance, quindi ultimissimo modello 2022 con 12.000 km. Di fianco Golf 8 2.000 turbodiesel 116 CV del 2021, per poi passare a questa Audi A1 1000 TSI 82 CV con solo 50.000 km, ovviamente adatta dal neopatentato. Per chi piace passare il tempo libero che magari ha bisogno di spazio abbiamo questi due Volkswagen Caddy turbo diesel un 2019 e un 2016, tutti e due sono perfetti, sono pari al nuovo, sono veramente uno nero e l'altro argento metallizzato come nuovi. Poi passiamo ancora, abbiamo delle Golf 7.5, questa iGline a benzina 1.5 TSI 2019, 30.000 km, grigio tungsteno. 2.000 turbodiesel 150 CV in versione iGline, poi abbiamo delle Golf col pacchetto R-Line, delle GTD in arrivo e delle Audi A1 in arrivo. Poi ovviamente abbiamo il nostro usato che abbiamo ritirato dai nostri clienti, quindi a partire da questa Lancia Y con l'impianto GPL, Mercedes classe A, la Fiesta è già stata venduta, Polo 1.4 turbodiesel 75 CV sempre da neopatentato, Audi A1 1.4 turbodiesel 90 CV sempre da neopatentato, Ford Fiesta turbodiesel 1.5 turbodiesel del 2016 con 65.000 km sempre da neopatentato, altra 1.4 turbodiesel da neopatentato, una bellissima 1.6 turbodiesel 110 CV, macchina fantastica con il pacchetto R-Line del 2016 con 123.000 km, Q5 3.000 turbodiesel per chi vuole andare sul grosso e finiamo con questa Alfa Romeo Mito, ma abbiamo anche la prossima settimana delle altre vatture in arrivo, ci arriverà un Audi A4, un T-Roc delle Audi A1, quindi il nostro parco, finalmente riusciamo a trovare qualcosa e diventerà un po' più grande. Se avete la necessità di contattarmi, mi chiamate al numero 345 060 86 80 o mandate un Whatsapp, qui mandate un Whatsapp, o un'e-mail a info.chioselabiancoauto.it o ci chiamate al numero fisso 0141 96 92 14. Ciao a tutti e alla prossima!